Nicolo so che sei un po' arrabbiato per com'è finita la gara, però devo dire innanzitutto che sei andato veramente forte anche questo weekend da parte mia. Però dimmi tu come l'hai vissuto questo weekend? È andata bene per pure le qualifiche che ho fatto P3, dopo le match ho fatto una match terzo e le altre primo, la pre finale primo e ora secondo. Il risultato in realtà è buono, però essere primo all'ultima curva dell'ultimo giro dopo farsi fregare non è bello. È vero, non è bello, però devo dire che comunque è un altro podio, che ne hai fatti veramente tanti in questa stagione e poi alla Euroseries secondo me potresti fare un altro bel risultato, no? Sì, posso fare un altro bel risultato, però... Ti dispiace? Però mi dispiace. Va bene, dai, le gare vanno anche così, però bravo Nicolo, dai. Grazie.